Buonasera a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati sul mio canale Oggi parliamo ancora di MFL, Metaverse Football League Allora, di che cosa parlerò in questo video? Vi voglio parlare dei contratti e dello scouting dei giocatori Ho notato che ancora per alcuni, per i primi che si affacciano al gioco Magari ancora non hanno preso confidenza e dimestichezza con il discorso dei contratti E su come si gestiscono appunto i giocatori Lo scouting e all'interno dello scouting come mettere in vendita i giocatori Come mettere in prestito i giocatori con le offerte autoaccettanti In modo tale che non bisogna stare sempre lì sul pezzo a guardare tutte le offerte Ma mettiamo dei parametri ad esempio su un giocatore Se qualcuno fa un'offerta che rispetta i nostri parametri L'offerta verrà accettata automaticamente Come fare tutto questo lo vediamo in questo video dopo la sigla Allora eccoci qui Siamo all'interno della schermata principale Dove c'è praticamente il mio QG Sarebbe l'home page del nostro account Qui in alto vediamo gli MFL In alto a sinistra vediamo gli MFL accumulati nel gioco Abbiamo tutti i nostri giocatori Parliamo di nella schermata principale Vediamo i giocatori che sono di nostra proprietà Le coppe se ne abbiamo vinte alcune Oppure se abbiamo club Acquistato club che ne hanno vinte Le ultime partite diciamo un resoconto generale Gli ultimi acquisti eccetera In alto possiamo vedere all'interno sempre del mio QG Praticamente club Dove praticamente vediamo i nostri club Da qui praticamente possiamo andare a gestire Oppure addirittura vedere in vendita Annullare la vendita eccetera All'interno di questa schermata Vedremo praticamente c'è la schermata giocatori Questa schermata è fondamentale Qui abbiamo l'elenco completo Di tutti i giocatori in nostro possesso Quindi di nostra proprietà Da qui possiamo vedere ogni giocatore Le caratteristiche quindi panoramica Giocate un poco con i filtri Ricordatevi che per vedere questa schermata Bisogna spostarsi praticamente da griglia a tabella Da tabella praticamente si avranno tutte le informazioni Bene nel dettaglio Andando su contratti Andiamo a parlare praticamente proprio di questo Oggi non parliamo delle caratteristiche dei giocatori Parliamo dei contratti Andiamo a vedere praticamente il resoconto Dei nostri giocatori A chi sono in prestito Alle squadre E la quota dei ricavi Che abbiamo praticamente pattuito con le squadre Che riceveremo al termine del loro campionato O della loro coppa Praticamente in base agli MFL Che vinceranno queste squadre Noi prenderemo la percentuale Quindi vien da sé ragazzi Che più si sale di divisione Più si dà in prestito Un giocatore a una divisione più alta E più ovviamente Gli MFL che ci ritornano Prende sono superiori Ma è anche vero Che per puntare le alte divisioni Bisogna avere dei giocatori molto forti Se volete vedere Un rapporto su Quanto si vince Quanto non si guadagna Con MFL Andatevi a ripescare Un video che ho fatto recentemente Qualche tempo fa In cui andavo proprio a analizzare Se i giocatori forti Vale la pena tenerli nella propria squadra Oppure dareli in prestito Io per esempio I miei top Sono praticamente dati tutti in prestito Nelle top divisioni Perché ho reputato Che sia molto più conveniente per me Qui vediamo quindi Tutte le informazioni E possiamo gestire appunto Tutti i contratti Adesso quasi tutti Hanno già Stipulato dei contratti Quando Si fa un contratto Con la propria squadra Ci chiederà Praticamente Anche nel nostro caso La quota ricavi Per molti Per molti Può sembrare Una banalità Potrebbe essere Che dici Ma se io Ho una squadra E devo fare un contratto Faccio un esempio A sechine Ok Clicco qui sui tre puntini Praticamente Vedo Metto così Clicco sui tre puntini Qua in alto E praticamente Faccio Fai un'offerta di contratto Anche per i nostri giocatori Bisogna fare l'offerta di contratto Si hanno più squadre Quindi praticamente Si sceglie la squadra Con il quale Si vuole desterare Il giocatore Si può selezionare Praticamente Rinnovo automatico Sì O rinnovo automatico No E Fleggando praticamente Su rinnovo automatico Questo vale sia Per i giocatori nostri Ma sia anche Per i giocatori Che andiamo a prendere Di altri manager Con rinnovo automatico Praticamente Che cosa succede Succede che Se si seleziona Rinnovo automatico Significa che io Voglio Avere l'opzione Di poter rinnovare Automaticamente A queste condizioni Contrattuali Anche la prossima stagione Con questo giocatore Io consiglio sempre Di metterlo Perché poi dopo La stagione è lunga Si può rinunciare A rinnovo E eliminare Rinnovo automatico Fino all'ultimo secondo Prima del termine Della stagione E Questo vale per entrambe Le parti Anche chi Riceve un'offerta Io non starei troppo Lì a soffermarmi Sul rinnovo automatico Intanto Io lo accetto Poi dopo Se mettono Un rinnovo automatico Anche se il giocatore È mio E mi arriva Un'offerta Con rinnovo automatico Io posso andare A togliere Il rinnovo automatico Su un giocatore Che ho dato in prestito Quindi questa è una cosa Già è un punto Che volevo Chiarire Perché in alcuni casi Ha creato Dei dubbi Quindi il rinnovo automatico Non state secondo me Troppo tempo Lì a soffermarvi Se metterlo O non metterlo Per me È sempre Metterlo Perché se si mette Poi potete sempre Rinunciare in qualsiasi momento Se non lo mettete Magari quel giocatore Vi rendete conto Che performa particolarmente Con il vostro modulo Con le vostre caratteristiche Di gioco Eccetera Poi dopo Non potete più inserirlo E quindi poi Praticamente L'anno successivo Dovrete andare A cercare Di contattare Il manager Per cercare Di riavere Magari quelle condizioni Quindi Occhio al discorso Rinnovo automatico Per le quote Dei ricavi Si sceglie Praticamente Come vi dicevo Si sceglie La percentuale Che io Se in questo caso Sto facendo un'offerta Che io sono disposto A dare Degli MFL Che vinco Con quella squadra Al manager Di questo giocatore Allora Questo vale ovviamente Con i giocatori Che sono Di proprietà Di altri manager Ma cosa succede Con i nostri giocatori Allora Possiamo Intanto Possiamo metterli A zero Possiamo fare Un'offerta a zero E le offerte fatte Ai nostri giocatori Sono autoaccettanti Quindi nel momento In cui faccio l'offerta Quell'offerta Viene accettata Automaticamente Ma Ma Se io Ho un club Come per esempio Il mio Ginga Che ho messo In vendita Io posso Decidere addirittura Di mettere Una quota di cavi Che per assurdo Va ovviamente Sempre con un massimo Del 100% Calcolando anche Gli altri giocatori Posso mettere anche 80% C'è un massimo C'è un massimo Che se non erro È di 20 È di 20% Posso mettere anche 20% Perché Perché Se Ginga Venisse acquistato Prima Dal termine Del campionato Magari Ginga va bene Ok Va meglio Se venisse acquistato Prima del termine Del campionato Che cosa succede Succede che Il manager Si prende Ginga Nel campionato Che io Sto facendo Quindi che cosa Faccio io Se metto Una squadra In vendita Io ad esempio In Ginga L'80% Dei ricavi Sono già Bloccati su di me Perché Io ho messo In vendita Ginga A 80 dollari Ma I miei giocatori Li ho Ho fatto Dei contratti Al 20% Perché In modo tale Che Se qualcuno Qualcuno Furbo Compra la squadra Praticamente Che magari Sta andando bene O sta andando male A termine Campionato Quindi per prendersi G MFL Del campionato Che io ho giocato Al termine Del campionato Li dovrà dare a me Quegli MFL Con le percentuali Che ho messo Sui giocatori Ovviamente Questo discorso Io l'ho fatto Con Ginga Perché è in vendita Ma non l'ho fatto Con Interdigital Che è la mia squadra Che ho intenzione Di mantenere Per sempre E quindi Non farci Trading Niente di che Quindi Il mio obiettivo Di Interdigital È portarla Sempre in alto Punta sempre al titolo E quant'altro In quel caso Ovviamente Un giocatore Che è già mio Metto zero E semplifico le cose In modo tale Che poi Ho un margine superiore Per contrattare Con gli altri giocatori Visto che in quel caso Faccio anche contratti Da altri giocatori Molto più alti A differenza di Ginga Quindi spero Quindi spero Spero che sia stato Chiaro Questo discorso Delle percentuali Del rinnovo automatico Se magari Ho saltato Qualche pezzo Non esitate a scriverlo Nei commenti Oppure venite a parlare Nel gruppo Telegram Che ci confrontiamo E magari Ci facciamo anche Quattro chiacchiere su Quindi abbiamo detto Che in questa schermata Vediamo i nostri giocatori Ci sono alcune funzionalità Che sono molto utili Ad esempio La selezione La selezione automatica Si può selezionare Praticamente Più giocatori Contemporaneamente Ad esempio Così Facendo così E fare Per esempio Imposta Disabilita Rinnovo automatico Per il discorso Che ad esempio Se sono dei giocatori Che sono in prestito E io voglio Magari Eliminare Rinnovo automatico A tutti i giocatori Che ho in prestito Io li seleziono tutti E disattivo Il rinnovo automatico A tutti E per semplificare Per non entrare Per non andare a cliccare Giocatore per giocatore Ad esempio Si può fare Un'offerta di contratto A più giocatori Contemporaneamente Se parliamo sempre Dei nostri Oppure Impostare la disponibilità Ad esempio Di questi tre giocatori Io voglio mettere La disponibilità E quindi Li metto praticamente Sul mercato Dei prestiti Quindi mi raccomando Non in vendita Parliamo di prestiti Si può mettere Nessuna preferenza Quindi comparirà Nell'elenco Chiunque mi può fare offerte Posso disattivare L'offerta Ad esempio Se ho dei top player Che magari mi arrivano Troppe offerte E voglio disabilitarlo Posso farlo Ok Oppure posso fare Aperto ad offerte Qui In questo caso Dice Ok Va nel calderone Dei giocatori Cedibili In prestito Qui Metto La divisione minima Che significa Significa la presenza Se metto qualsiasi Significa che qualunque squadra Può farmi un'offerta Di contratto A questo giocatore Se per esempio Io ho un giocatore Raro Da 80 Io non metto Qualsiasi Ma io vado A mettere magari Argento Oro Quindi significa che Se io dovessi selezionare Argento Significa che solo le squadre Da argento In su Possono praticamente Farmi un'offerta Di contratto Facciamo così Io qua metto Qualsiasi Quindi significa che Dalla divisione Ice Per questi giocatori Perché ho selezionato I giocatori All'incirca di Overal 53 54 Quindi La quota di cavi Ne abbiamo già parlato Quindi qua sto decidendo Praticamente Mettendo Posso non metterla E quindi Chiunque Mi può offrire Qualunque cifra E qualunque percentuale Ma Se la metto Ad esempio Metto 1 Vuol dire che Non mi possono offrire Meno di 1 Quindi praticamente Sto facendo Sto mettendo In lista Cessioni Prestiti Come vogliamo chiamarla Questi giocatori Tutti e tre Contemporaneamente Oppure lo si può fare Anche semplicemente Con 1 Sempre la stessa schermata Mettere la percentuale Che voglio Io se io metto 1 Nessuno mi può offrire 0,5 0,1 0,9 Possono offrirmi 1 O più di 1 E quindi In quel caso Praticamente Se la lascio così Magari posso valutare Più offerte Quindi dico Ok Minimo 1 Poi magari mi arrivano Più offerte E poi la valuto Attenzione a questo flag Qui sotto Che posso attivare O disattivare Se metto Questo flag Significa Autoaccetta Se le condizioni Sono soddisfatte Che significa Significa che va a finire Nel calderone Che poi vedremo Dei cedibili Con offerte Autoaccettanti Cosa significa Significa che Se uno mi fa Un'offerta A queste condizioni Quindi in questo caso Ad esempio Abbiamo messo Qualsiasi Quindi di una squadra Di qualsiasi lega Mi offre Uno Su questi giocatori Praticamente Vanno automaticamente Il contratto Viene automaticamente Accettato Io lo uso tantissimo Perché Alcune volte Non stiamo dietro Al gioco Soprattutto quando Il mercato è aperto Per così pochi giorni Non ci si può stare Dietro troppo tempo Quindi magari La gente porta fretta E quindi magari Fa un'offerta Se vedi che non risponde Dentro poco Magari l'annullano E passano altrove Molti utilizzano Questa funzione È importantissima Secondo me Io la uso tantissimo Tantissimo E Sia per Sia per dare In prestito E sia per prendere In prestito E Quindi se metto Auto accetta Vanno a finire Il calderone Che adesso vi farò vedere Quindi salva Facendo salva Praticamente Questi giocatori Vengono messi Automaticamente In prestito Qui Abbiamo la disponibilità E dove vediamo Praticamente Io questi qua Per esempio Li ho messi tutti quanti A minimo ghiaccio Quindi ho senzionato Qualsiasi Ho messo 0,1 Auto accettante Adesso vedo se Ok Ovviamente Ovviamente Qui a sinistra Ci sono anche I filtri Se abbiamo Tanti Tanti Giocatori E quindi Ad esempio Quando Questo Li uso Soprattutto Quando sto Costruendo La mia squadra Quando faccio La squadra Inter digital Ok Faccio prima Seleziono portiere Mi vado a prendere Il mio portiere Più forte Poi terzino Destro Terzino Sinistro Eccetera Eccetera Quindi magari Lo uso Lo uso Più spesso Adesso andiamo A vedere Dove vanno a finire Quindi abbiamo visto I nostri giocatori Adesso andiamo A vedere Dove vanno a finire I nostri giocatori Oppure dove Praticamente Andiamo a cercare I giocatori Degli altri manager Che vogliamo Tesserare Con le nostre squadre Perché magari Non abbiamo Un giocatore Che ha delle caratteristiche Oppure magari Abbiamo pochi giocatori O addirittura Nessun giocatore Possiamo praticamente Comprare per assurdo Una squadra E andare a prenderci I giocatori Di tutti gli altri manager Facendo un po I due calcoli E quindi Farci avanzare qualcosa Per i nostri MFL Anche se Consiglio sempre Di prendere comunque Almeno i tre pacchetti Giocatori basilari Perché se avete Un po' di fortuna E magari beccate Un giocatore Di una rarità superiore Alla comune Magari Potete anche Fare una plus valenza E quindi venderlo Per poi reinvestire nel gioco Oppure farne quello Che ne preferite Adesso andando su scouting Andiamo a vedere Appunto questo calderone E andiamo a vedere Un po' di che cosa si tratta Qua in alto Abbiamo i free agent Quindi sarebbero L'elenco Di tutti i giocatori Che sono senza squadre Che non hanno un contratto E quindi Al quale possiamo fare Le offerte Se ci sono Praticamente Le disponibili Dobbiamo andare a vedere La disponibilità Quando c'è il trattino Praticamente sarebbe Quello aperto Alle offerte Che avevamo visto prima Quindi possiamo Praticamente fare L'offerta A questi giocatori Se lo hanno impostato Ad esempio Come in questo caso Hanno minimo platino Quindi devi avere Una squadra Di divisione Almeno platino 10% Con auto Accetta Poi ovviamente Qui giocando Con le disponibilità Ad esempio Si può mettere Selezione pietra La nostra divisione E quindi andare a filtrare Gli aperti Alle offerte Quindi Togliere i non specificati E quindi aperti Le offerte Quindi quelli che hanno Selezionato una disponibilità E quindi si aspettano Delle offerte E andare a vedere Praticamente Tutti quelli A cui possiamo fare Delle offerte Che hanno messo Praticamente Ad esempio Questo qui Ha messo soltanto L'ha messo in prestito Ne divisione pietra Non ha specificato Una cifra Non ha specificato Ad accetta Quindi hai aperto Le offerte Io posso andare qui Cliccare Su i tre puntini Fai un'offerta Di contratto E magari Buttagli in offerta Ad esempio Due Con rinnovo automatico E faccio Fai offerta Adesso questo qua Non nullo Altrimenti Questo mi dici Sei pazzo Che vuoi prendere Una rara Con una squadra Nella pietra Non me l'accetterebbe mai Quindi praticamente Questa è la zona In cui si possono vedere I vari filtri E quindi giocare Con i filtri Sulla disponibilità O sui contratti Quindi free agent Sotto contratto Sotto contratto Con questo video Non ci interessano Perché sarebbero Quelli a cui Non possiamo fare offerte Perché già hanno Un contratto Con altre squadre Andando qui in alto Abbiamo la sezione Più importante Che sono i contratti Autoaccettanti Sarebbero L'elenco completo Di tutti I giocatori Che in questo caso Abbiamo lasciato Il filtro Pietra Che hanno Impostato Un Autoaccetta Su I determinati Giocatori Ad esempio Questo qui Che è in alto Che è un centrocampista Centrale Che ha praticamente 70 di overal Ed è fortissimo Questo qua Praticamente Ha Impostato Stelling Archer Un minimo Pietra 5.5% Autoaccettante Quindi se io vado Qui sopra Faccio Fai un'offerta Di contratto Seleziono Il club Li faccio L'offerta Così Praticamente Mi arriva Direttamente Il messaggio Complimenti Hai tesserato Il giocatore Norman Perché appunto Si trovano Nelle autoaccettanti Ci sono anche Alcuni Per esempio Dal ghiaccio C'è qualcuno O pietra Quindi praticamente In questa sezione Diciamo che si fanno Le cose In una maniera Più Più veloce Per esempio Questo qui Un difensore centrale Che praticamente Mi serve In questo momento Ci troviamo Nella fase Sto registrando Questo video A un giorno E 14 minuti 14 ore Praticamente Dalla chiusura Del mercato Ovviamente Questo non l'ho specificato All'inizio Perché ho dato Per assodato Si può fare Ovviamente Solo quanto Il mercato È aperto Quindi o Nella sosta Di Di campionato Del torneo Oppure Prima Del torneo Quando Riapre Il mercato E Quando c'è la sosta Come in questo momento Posso fare al massimo Tre movimenti Per squadra Quindi Io Devo Intanto C'ho un Magine Massimo Anche questo Non l'ho specificato Perché l'ho dato Per assodato Di 25 giocatori Quindi Quindi ovviamente Se le mie squadre Già sono al completo Io provo a fare un'offerta E mi dice Amico Vedi che la tua squadra È completo Non puoi tesserarlo Devi andare Prima nella tua squadra E O Rinunciare Inviare una richiesta Di rinuncia al contratto Al manager Proprietario Del giocatore Oppure Se lo faccio Su un mio giocatore Ovviamente Rinuncio al contratto Rescinde il contratto Automaticamente Perché sono sempre io Che sto facendo la richiesta A me stesso E quindi Si autoaccetta Ma posso fare al massimo Tre Nella sosta Mentre Nel pre-campionato Si possono fare Tutte le movimentazioni Che si vogliono Si possono praticamente Togliere i contratti Rimettere Sui nostri giocatori I quanti ne vogliamo In qualsiasi momento Mentre Quando facciamo Un contratto Con un giocatore Di un altro manager Quando facciamo Un contratto Dobbiamo stare attenti Perché per rinunciare A quel contratto Ci serve il consenso Dell'altro Del suo agente Perché altrimenti Ce lo teniamo Fino a fine stagione L'unica cosa Che siamo libri Di rinunciare In qualsiasi momento È come vi dicevo Prima Era il rinnovo automatico Quindi se quel giocatore Proprio non ci piace Li inviamo La rinuncia al contratto Lui ce lo rifiuta Noi almeno Li disabilitiamo Il rinnovo automatico In modo tale Che a termine stagione Lui se ne ritorna Bello bello Dal suo agente Quindi come vi dicevo Questa è la parte Autoaccettante Quindi in questa zona Si può praticamente Fare Un'offerta E praticamente Farla accettare Automaticamente Bene ragazzi Allora Io con questo Praticamente Ho concluso Mi sono anche Dilungato Ho fatto un video Bello lungo Mi sono dilungato Anche di Tanto Anche perché Sembra Sembra un argomento Banale Dove magari Sono a dire due cose Ma ci sono molti dettagli E molte cose A cui bisogna fare attenzione Come il discorso Di contratti Di rinnovi Eccetera Eccetera Se avete necessità Magari ho saltato Qualcosa Dove non mi sono Soffermato Più di tanto Perché ho cercato Volevo trattare Quasi tutto L'argomento Scrivetemelo Nei commenti Oppure come vi dicevo Prima Venite anche su telegram E ne parliamo su telegram Non c'è nessun tipo Di problema Così magari ci confrontiamo Lì E ci facciamo anche Quattro chiacchiere E magari mi inite a dire Anche la vostra Io vi ricordo Per chi non ha giocato Chi non gioca A MFL Se vi registrate Con il link Qui sotto in descrizione Al terzo Acquisto Del terzo pacchetto Starter Dei Che sono riservati Ai nuovi utenti Vi arriva un ulteriore giocatore In regalo Quindi Detto questo Io vi risaluto E vi ringrazio Per aver visto Questo video Buona serata a tutti Da Domenico Di Domi Digital Iscriviti al canale